Prosegue alla Luis Guido Carli l'edizione 2011 di Rom Model United Nation, il progetto di simulazione ONU dedicato agli studenti universitari di tutto il mondo e organizzato dall'Associazione Giovani nel Mondo. Una seduta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite comprende non solo i delegati di tutti i paesi membri, ma il Palazzo di Vetro pubblica ad ogni dibattito di giornalisti appartenenti alle maggiori testate mondiali. La simulazione non si limita dunque ai soli delegati, ma comprende anche gli inviati di BBC, Russia Today, CNN, France 24, Rai News e altre. Ragazze, oggi simulate di essere giornalisti che assistono al dibattito dell'ONU, come sta andando questa esperienza? L'esperienza sta andando bene, è interessantissimo soprattutto fare esperienza come giornalisti, ma soprattutto come giornalisti internazionali, perché bisogna dar voce a tutti i paesi, cercare di avere uno sguardo imparziale su quello che sta accadendo, sul dibattito che sta avvenendo in aula, quindi è tutto molto interessante da seguire anche in inglese e anche questo ci dà la possibilità di fare un'esperienza ancora più forte rispetto a quella di un normale giornalista nazionale. Cosa prevedono i vostri compiti? Cosa dovete fare? Allora, i nostri compiti partivano dall'analizzare ciò che i nostri relativi giornali cercavano, quindi la richiesta che i nostri giornali hanno, ad esempio io mi occupo del France 24 e dovevo analizzare come i paesi di lingua francese o di regime francese appunto volevano far vedere i loro paesi e quindi la loro politica di fronte agli occhi degli altri paesi. Un'interessante esperienza per i ragazzi che partecipano alla simulazione giornalistica che fa comprendere il diverso punto di vista delle testate internazionali, da quello più obiettivo della BBC a quello prettamente nazionalistico francese a quello in edito russo fino a quello italiano. Qual è il punto di vista della testata russa? Beh, il punto di vista della testata russa ovviamente comunque anche attraverso una relazione riuscire a far capire al mondo il punto di vista anche russo, perché di solito nelle tv internazionali prevalgono comunque le tv inglesi come BBC oppure altri giornali che vengono detti in lingua inglese e Rush Today è un canale russo che per la prima volta trasmette in inglese anche in arabo in tutto il mondo, quindi anche la Russia viene capita e sentita a chi abbia voglia di avere una visione generale in tutto il mondo. La BBC è una delle testate che ha proprio maggiore diffusione in tutto il mondo, è anche delle più autorevoli, quindi rappresentarla non è semplice. Io ho provato a dare una linea editoriale che fosse corretta e imparziale quanto più possibile, quindi sto cercando di fare questo. Quali sono le principali differenze fra la tua testata e le testate internazionali? La news appunto, almeno per come ho avuto modo io di esperirla, di seguirla, sia sul sito, sia in televisione, è proprio una testata che svolge più, soprattutto un lavoro di aggiornamento in tempo reale, quindi di fornitura di notizie, di fatti, di cose, mentre altre, ad esempio la BBC è una testata che ha molto più la vocazione di inchiesta, di sviluppare l'aspetto documentaristico e quindi dell'approfondimento della notizia. Le giornate sono frenetiche al Palazzo di Vetro e le comunicazioni devono essere inviate in fretta, seguendo la linea editoriale della testata di appartenenza. Rom Moon continua a sfornare talenti. Buon lavoro a tutti!